Ecco la nuova piazza Giotto ad Arezzo presentata alla cittadinanza in un incontro pubblico nel salone della chiesa del Sacro Cuore. Un intervento che riqualificherà l'intera zona, la fontana verrà rimossa, ci saranno interventi sul sagrato, sulla piazza centrale, sul sistema del verde, le aree drenanti, il tutto per una piazza versatile ad uso polifunzionale dai mercati ad uno spazio ludico. Un progetto che rispecchia quelle che sono le peculiarità di questa piazza, quindi la parte collegata alla parte religiosa e questo quindi con un intervento rivolto a quello che è il sagrato della chiesa con materiali anche di pregio che poi si innestano su questa piazza che diventa civile, quindi con il collegamento a quelli che sono i condomini che si affacciano sulla piazza mantenendo un'unità che poi dopo riguarda l'intero intervento. La riqualificazione dell'area passerà anche da un altro importante progetto, il trasferimento della Mensa Caritas agli spazi della ex caserma Piave. I lavori nella nuova piazza avranno inizio tra la fine del mese di aprile e i primi di maggio. L'importo complessivo del progetto finanziato con fondi PNRR ammonta a 1.523.000 euro. Abbiamo utilizzato il materiale per l'eccellenza, quindi il travertino perché riguarda il sagrato nella piazza abbiamo inserito una pietra alberese che avrà poi dopo queste liste che partiranno dal sagrato e arriveranno in travertino fino dentro la piazza, quindi anche i materiali sono stati utilizzati, materiali di pregio appunto.